Incastro psicologico Quando da lungo tempo disuniti non avviene un riallaccio affettivo, c'è il rischio che rimanga del difetto psicologico o dormire male, perdita di peso e sbalzi d'umore. Si consiglia, prima di una nuova relazione, se il compagno non è compatibile alle nuove abitudini personali, di affrontarle insieme. Salve eccezioni psichiche condurre in solitudine la vita avendo dei figli sconcettati, se no c'è il rischio di avere ansia e depressione. Il nuovo equilibrio psichico non va sottovalutato, può avere conseguenze mentali senza avvertirle. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, editore PAME, sigillo d'autore, fine agli edo fine, con realità. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, editore PAME, sigillo d'autore. Incastro psicologico Quando da lungo tempo disuniti non avviene un riallaccio affettivo, c'è il rischio che rimanga del difetto psicologico o dormire male, perdita di peso e sbalzi d'umore. Si consiglia, prima di una nuova relazione, se il compagno non è compatibile alle nuove abitudini personali, di affrontarle insieme. Salve eccezioni psichiche condurre in solitudine la vita avendo dei figli sconcettati, se no c'è il rischio di avere ansia e depressione. Il nuovo equilibrio psichico non va sottovalutato, può avere conseguenze mentali senza avvertirle. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, editore PAME, sigillo d'autore. Fine agli edo fine. Cordialità Fatale Grazie 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 È